Cioè è apprezzabile questo, il fatto che un allenatore non guardi in faccia a nessuno, non guardi in faccia il cartellino o la storia o insomma il peso nello spogliatoio, ma guardi soltanto quello che almeno lui crede possa dare di più alla squadra, no? Però, oddio, cioè sì, però oddio, nel senso stiamo parlando sempre di Hummels. Buongiorno, buon pomeriggio amici romanisti, benvenuti su RomaFans, sono come al solito Rudy Zlatan, mi raccomando, vi ricordo di seguirci su tutti i social, soprattutto su Instagram e di iscrivervi al canale in questione, attivate la campanella così restate aggiornati su tutti i video che pubblicheremo, soprattutto alle 14 di ogni giorno, poi ci saranno quelli un po' speciali, quelli un po' estemporanei a seconda delle notizie che usciranno, e ci auguriamo che usciranno notizie della Roma, non come quelle di oggi, andremo a parlarne subito, perché, notizia di questa mattina, i Fritkin hanno cancellato il volo a Roma. Ecco, oggi ci occuperemo di questo e delle dichiarazioni di Juric, mi sono segnato tutto, stavolta voglio fare la persona seria, andiamo a vedere una per una. Allora, cosa dire, cosa dire dei Fritkin, che sono la notizia più fresca e forse succulenta, ma che probabilmente non piace al tifoso romanista, a me non piace, penso di interpretare bene l'idea un po' di tutti, perché ci aspettavamo che finalmente la dirigenza avesse capito, avesse maturato, avesse accettato che, insomma, quello fatto il 18 settembre era un errore, è stato un errore commesso abbastanza grave, e quindi era il momento di tornare indietro, non assolutamente, cioè nel senso di chiamare De Rossi, perché questo era il mio scenario preferito, ma quantomeno capire che la persona scelta per sostituire Daniele De Rossi non è quella giusta, e cioè ci riferiamo ad Ivan Juric. Ci aspettavamo questo, quindi Fritkin che dovevano atterrare questa mattina, magari avere un colloquio, ci auguravamo dopo la partita, con la squadra, perché adesso bisogna essere concentrati sulla partita di domani alle 3 con il Bologna, con i dirigenti, quindi con Ghisolfi, con tanto di traduttore vicino che possa far capire, insomma, le due parti, Juric, tutta la squadra, insomma, per capire cosa fare, come proseguire e qual è la scelta migliore per il nostro futuro, che al momento vediamo veramente nero, e questo continuiamo a dirlo e ad affermarlo sempre con più grande chiarezza rispetto a ieri, perché diventa sempre più chiaro e anche, secondo me, le dichiarazioni quest'oggi lo fanno capire che il futuro della Roma è difficilmente roseo se non cambia qualcosa a livello di guida tecnica, perché Juric sembra aver perso completamente il controllo, comunque non ispira fiducia all'ambiente e abbiamo visto che l'ambiente è anche importante, ma non fondamentale, perché l'ambiente Roma è molto simile, visto che siamo nella stessa città, all'ambiente Lazio, chiaro che l'ambiente Lazio è meno numeroso, meno viscerale, leggermente meno viscerale, meno viscerale, e quindi è un po' diverso, ma stiamo parlando comunque di Romani come noi, qualcuno direbbe di Ciociari, ma va bene, lasciamo stare le battute in questo momento, la Lazio si trovava ad inizio campionato in un clima di chi cazzo è Baroni, Presidente Vattene, stai a ridimensionare la squadra, eccetera, eccetera, con il lavoro e con le cose giuste ne sono usciti fuori, quindi non è detto che non si possa fare questo anche noi, evidentemente non si sono prese le scelte giuste e qualcuno si deve anche prendere ed assumere le sue responsabilità. Non so quanto, cioè cosa vuol dire questa cosa, che non arrivano quest'oggi, quindi hanno cancellato il volo per Ciampino quest'oggi, se preferiscono arrivare in settimana, se proprio non vogliono venire, se volevano solo venire per questioni di stadio, quindi burocratiche, e poi hanno capito che non c'erano i presupposti per poter parlare di quello, quindi dicono evitiamo, visto che poi magari devo andare a Roma e mi devo pure prendere le mie responsabilità, cosa che non mi va, perché vado alle Maldive, sto più tranquillo lì, non lo sappiamo, ma una cosa che io riaffermo con ancora più forza, con ancora più vemenza, è che nessuno sa niente, e quando dico niente, vuol dire niente dei Fritkin. L'unica notizia che io avevo preso per buona, ed era ufficiale perché c'erano delle prove sostanziali, era quella di Filippo Biafora, se non sbaglio, Biafora come si chiama, Biafora credo, che aveva detto hanno prenotato per arrivare a Roma, perché probabilmente c'è una prenotazione, quindi quella è una notizia abbastanza certa, poi l'hanno cancellata, è un problema secondario, ma evidentemente una notizia c'era. Per il resto, quando sentite, no, i Fritkin sono vicini al ritorno di De Rossi, smettito il giorno dopo, no, i Fritkin stanno pensando De Rossi con Ranieri in dirigenza, smettito il giorno dopo, no, i Fritkin hanno pensato che forse Allegri, smettito il giorno dopo, sono tutte cazzate. Quindi, quello che faccio io, o quello che fanno tante altre testate giornalistiche, romaniste e non, più o meno è la stessa cosa, cioè cercare di prendere le cose oggettive, i fatti chiari, verificati e verificabili e legare i punti, quindi immaginare tra fatto A e fatto B quello che possa essere successo nel mezzo e quindi quali sono le intenzioni di Fritkin, quale è probabilmente quello che succederà in futuro, lo stiamo facendo tutti, ma è anche chiaro che nessuno ha la verità in tasca, quindi non ci resta che vivere, aspettare, vivere e capire quello che faranno i Fritkin. D'altra parte, non solo non parlano con nessuno, non solo nessuno ha la notizia certa, ma sono anche difficilmente prevedibili come presidenti. Perché? Perché francamente hanno fatto tante scelte inspiegabili in passato e perché soprattutto in questo momento non si capisce chi sceglierebbe, cioè in passato hanno scelto loro o ha scelto qualcuno tipo la Soloku che ne faceva le veci e loro si sono fidati, affidati. Cioè adesso, in questo momento, chi dovrebbe scegliere? Dovrebbero scegliere loro, ma su quali basi? Qual è il loro, cioè diciamo il loro modus operandi, modus pensanti, la loro razio per fare alcune scelte? Non lo sappiamo e infatti i risultati sono questi, che Juric è ancora sulla nostra panchina, lo sarà anche domani, questo era abbastanza scontato, ma probabilmente lo sarà ancora dopo domani, e il giorno dopo domani, e il giorno dopo ancora. E vediamo, vediamo se succederà qualcosa. Queste sono le notizie al momento, al giorno d'oggi, e noi le prendiamo così come sono. Non ci stupiamo più di tanto, perché siamo stati abituati, soprattutto nei sei mesi scorsi, a cose di questo genere. E com'è quella scena di Malcolm che dice francamente non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Noi siamo un po' così in questo momento, ed anche per questo motivo servirebbe dare una piccola scossa. Ma adesso, dopo le dichiarazioni post partita di Juric, qui sentite il foglio, lo sentite? Oh, perché è importante farlo sentire. Dopo le dichiarazioni post partita di Juric e quelle di Mancini, che ci hanno fatto un pochino rizzare le antenne, e dire attenzione, qui tra le righe ci stanno dicendo qualcosa di importante, oggi arrivano le dichiarazioni di Juric. Noi andiamo a prenderle punto per punto. Devo dire che, come al solito, non siamo stupiti, non mi sono stupito. Ho ascoltato con le mie cuffiette, stavo lì e dicevo a volte, facevo, bah, non so se è serio o se scherza. Su alcune cose posso essere anche d'accordo, su altre, secondo me, siamo su un mondo completamente diverso, ma benvenuti nel mondo Juric, insomma. Partiamo con le domande. La prima domanda che gli è stata fatta è Allora, signor Juric, lei è arrivato... Naturalmente quello che leggerò è un, diciamo, una versione molto sintetica e letta tra le righe di quello che è stato detto. Cercherò di essere molto... Cioè, di riportare molto le parole che sono state dette veramente, ma anche di dare solo il senso delle parole e non... Perché molte volte noi ci spieghiamo in italiano con paroloni, dobbiamo mettere la frase sia detta sia domandata, cioè sia la risposta sia la domanda in un certo modo che possa essere accettata, insomma, ma in realtà vogliamo dire una cosa sola, bastava dire ma perché in te ne vai? E se l'hai capito, no? Per esempio, avete capito quello che intendo. Io cercherò di ridurre la domanda al perché in te ne vai? Così evitiamo cose inutili. La prima domanda è stata questa, di Assogna, poi, non mi ricordo tutti, però questa me la ricordo. Dice, lei è arrivato in un momento di emergenza, possiamo essere d'accordo nel dire che non è riuscito a tirare fuori la Roma dal momento di emergenza? E Juric abbastanza lucidamente ha detto, sono d'accordo, sono d'accordo nel dire che non sono riuscito a tirare fuori la squadra dell'emergenza. Non ha aggiunto nulla, ha soltanto detto questo, quindi si è limitato, diciamo, a una versione lucida dei fatti senza andare più nel profondo. Dopodiché qualcuno, se non sbaglio Roma TV, quindi magari anche meno interessato a creare casi proprio per testata giornalistica, gli fa la domanda, visto che domani giochiamo, cioè preoccupiamoci anche un pochino del Bologna, cosa che noi siamo meno abituati a fare in questi momenti, visto che batte sempre, diciamo, è più importante per noi e parliamo sempre di quello, cioè Juric se ne va, non se ne va, ma è lucido, sta fuori dal mondo, i Fritkin hanno fatto male perché non se ne vanno, ma non arrivano, ma che cazzo stanno a fare, eccetera, eccetera, e si dimentica, ci si dimentica, che poi domani c'è una partita importante per noi contro il Bologna in casa. E giustamente gli viene fatta la domanda, dove e come si può fare male a questo Bologna domani? Ecco, lì Juric, dobbiamo dire la verità, non ha risposto, si è limitato a una supercazzola di complimenti, ma questo è sempre stato un po' il suo modo di fare conferenze, che sono sempre molto brevi, concise, non parla di calcio, non vai nei dettagli, non gliene frega niente, l'abbiamo visto, quindi ha soltanto fatto complimenti ad Italiano, ha fatto complimenti al Bologna, ma di fatto non ha risposto, non ha detto questa è una squadra che si può mettere in difficoltà in questo modo, dobbiamo essere bravi e attenti su queste situazioni, eccetera, 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 come eravamo abituati con Spalletti, come eravamo abituati con De Rossi, anche che lo faceva molto, anche molto dettagliatamente, è tornato su una comunicazione, che è quella sua, insomma, non è andato tanto nel profondo. Qui arriva poi una domanda che va abbastanza a colpire, qual è il punto, è la domanda che ci stiamo facendo un pochino tutti noi, gli viene chiesto, ma a vedere quello che sono i risultati del campo, le prestazioni, eccetera, eccetera, lei sente sua questa squadra, cioè sente che la squadra la segue, che è con lei al 100%, 100% o sente comunque che non è così, almeno qualche singolo, o a livello di squadra, insomma, ci faccia capire un attimo, e lui risponde dicendo, io quando faccio le mie dichiarazioni a fine partita, non sono falso, cioè quando ho detto a Torino e Verona, mi sono piaciute, ho visto passi in avanti, ho visto cose positive, ero sincero, quindi ti dico che in questo momento ci sono momenti dove mi sento la squadra mia e momenti dove non me la sento. A Torino e Verona, sì, con l'Union Berlino, con l'Union Saint-Giluiz, quindi l'ultima partita, mi è sembrata molto simile a Firenze, ha detto questo, lo ha ripetuto poi anche per una domanda successiva, dicendo che l'ultima partita in Belgio, con l'Union Saint-Giluiz, gli è sembrata molto simile a quella di Firenze, dove non si è sentito praticamente di avere la sua squadra in campo, dove ha visto poca anima, dove ha visto poco attaccamento, e quindi dice, sì, a volte sì, a volte no, quindi, comunque non si sente, rispondo io alla domanda al 100%, non può affermare al 100% insomma che la squadra è con lui, perché a volte gli sembra di sì, a volte gli sembra di no. e a questa domanda gli si viene aggiunto un altro pezzo importante della comunicazione, di quello che abbiamo parlato in questi giorni in merito alla Roma, dice, ma ok, lei ci ha spiegato l'altra volta, ma alla fine, qual è il vero motivo perché Umels sta fuori? cioè ci spieghi è un motivo tecnico, nel senso che quali sono le cose che mancano, avete discusso, non lo vede bene in allenamento, l'ha provato e non rendeva come, cioè perché adesso, prima si diceva, poi questa è una cosa che dimentichiamo, non è stata chiesta, la scorsa volta, quindi prima di Dynamo Kiev, ci aspettavamo tutti Umels in campo, gli è stato chiesto, ma perché non gioca? o gioca? e gli è stato detto, guarda, Umels, grandissimo campione, grandissimo professionista, si sta allenando bene, non ha creato nessun problema, cose che ha detto anche oggi, però io in questo momento c'ho un Dica, che sta giocando super bene, in quella posizione lì, non lo posso togliere, quindi per questo motivo, insomma, Umels si accomoda in panchina, e noi, vabbè, storcendo un po' il naso, perché poi, Dica ha giocato 78 partite, braccetto di sinistra, poteva farne una in più, con un avversario che poi, era ridicolo, e si sapeva, sarebbe stato ridicolo, come quella di Namukiev, che è stata messa in campo all'Olimpico, ma va bene, ci siamo andati, ci siamo fatti andare bene questa spiegazione, adesso, con, eh, Hermoso, e, eh, Dica Out, cioè, perché Umels non gioca, e gioca a Cristante, che non solo ha perso il posto da titolare, nel suo ruolo, ma va a rubare il posto, ha un campione del mondo, ha un giocatore che ha fatto la Champions League, la finale di Champions League, lo scorso anno, in un ruolo che non è suo, cioè, quindi, figuriamoci, cioè, parkour, capito? Un po' una cosa folle, e la risposta di Juric in questo caso è stata, non mi dà le garanzie che chiedo, cioè, proprio quando io dico, tecnica, scelta tecnica, è semplicemente scelta tecnica, è una scelta tecnica, perché lui ha causato zero problemi, abbiamo avuto zero discussioni, è stato un professionista esemplare, eccetera, 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 ma io chiedo, in un certo determinato ruolo, due, tre cose, fondamentali, per come voglio giocare io, e Cristante me le ha garantite, Dica me le garantisce sempre, e in questo momento, evidentemente, Umels non gliele garantisce. Questa è stata la sua risposta, ha fatto anche l'esempio di Pisilli e Pellegrini, dice, quando manca Pellegrini, io metto Pisilli, ma non perché, perché Pellegrini chiedo quelle tre cose lì, in quel ruolo, Pisilli mi sa fare quelle cose, e io lo metto. Se tante volte vedo che Pisilli, mi può dare più garanzie su quelle cose che chiedo, rispetto a Pellegrini, anche se Pellegrini è il capitano, e Pisilli è il ragazzo giovane, appena arrivato dalla primavera, gioca Pisilli, e Pellegrini sta in panchina. E questa è una cosa che, possiamo anche apprezzare, cioè nel senso è apprezzabile questo, il fatto che un allenatore non guardi in faccia a nessuno, non guardi in faccia il cartellino, o la storia, o insomma il peso nello spogliatoio, ma guardi soltanto quello che, almeno lui crede, possa dare di più alla squadra, no? Però, oddio, cioè sì, però, oddio, nel senso stiamo parlando sempre di Umels, secondo me qui è un po', si sta facendo un discorso un po' trapo, zemaniano, cioè un po' troppo attaccato a quelle che sono le tue idee, anche Spalletti ce l'ha avuto qualche volta, il fatto di, dover stare per forza, fermo su un punto, perché, per te è così, punto e basta, e non scendere mai a compromessi, e purtroppo, in molte situazioni, è importante anche scendere a compromessi, l'ombre vertical, funziona, ma funziona se, sei capace anche a farlo passare, in un discorso generale, di comunicazione, con la squadra, con l'esterno, con i tifosi, con la società, eccetera, eccetera, e ti poni in una posizione di, autorità, hai il rispetto di tutti, hai l'autorità su tutti, e allora, se io dico le cose stanno così, stanno così, punto e basta, ma in una situazione, come quella di Juric, dove, non hai autorità, te lo dici tu stesso, perché, quando ti hanno fatto la domanda, ma se entra la squadra con lei, tu dici, a volte sì, a volte no, già questa è una risposta, cioè, se tu ti senti la squadra, in tasca, in mano, e allora puoi fare l'ombre verticale, puoi non scendere a compromessi, in questo momento, non ce l'hai la squadra in mano, lo sai che è così, qualche piccolo compromesso, va per forza preso, perché altrimenti, una cosa che ti posso dire, visto che dopo, gli è stata fatta anche una domanda, adesso ci arriveremo, e lui ha risposto che, insomma, la prestazione di San Gilloise, è stata quella che l'ha riportato un po' a Firenze, datti anche una risposta, magari, proprio questa cosa qui, cioè che la squadra, quando hai messo fuori, per l'ennesima volta, Hummels, non ti dico che consciamente, ti ha giocato contro, però, sicuramente, inconsciamente, non riesci a dare il 100%, perché quella scelta lì, magari, gli ha fatto pensare, ma questo è un coglione, perché ragazzi, voi, una cosa che molti di noi non pensano, perché magari hanno giocato poco a calcio, non sono stati a certi livelli, io non è che sono stato a grossi livelli, però, insomma, una partita, importante, è importante in terza categoria, o in serie A, cioè le pressioni, più o meno, sono quelle, nel senso che, la senti, perché ci tieni, eccetera, eccetera, mi sono capitate occasioni, in cui l'allenatore dà la formazione, e c'è un personaggio, dello spogliatoio, importante, che viene fatto fuori, è il primo momento, quando viene data la formazione, tu non pensi nemmeno, in quel momento lì, non pensi nemmeno, oh, mi ha messo alla destra, devo fare, no, la prima cosa dici, ma come? Quello fuori, e ti giri a guardarlo, e poi, appena l'allenatore va fuori, e ti prepari, no, cioè, si parla tra di noi, e si dice, ma, ma che su di noi, magari c'è una reazione dall'altra parte, cioè, queste cose sono normali, no? Quindi io credo che, anche i judici, in questo caso, è mancato un pochino di, furbizia, da parte mia, se ci aggiungiamo poi, che i motivi tecnici, tattici, li possiamo accettare, ma li possiamo accettare, se hai un meccanismo, che funziona alla grandissima, e se stai parlando di un calciatore, che non è, incredibilmente intelligente, ma qui stiamo parlando, di una Roma che non funziona, stiamo parlando di Hummels, che è un campione, e non solo fisicamente, o di abilità col pallone, ma è un campione, soprattutto di testa, di ragionamento, di calcio, lui capisce calcio, e allora, va un po' a mancare, questa tua spiegazione, francamente, secondo me ha fatto acqua, da tutte le parti, ma l'abbiamo detto più volte, non ci soffermiamo troppo, un'altra domanda, questa è una domanda, che penso ogni romanista voleva fare, diceva, lei parla sempre, a fine partita, di cose positive, insomma, che vede, miglioramenti, impressionanti, ma i numeri, la smentiscono, diceva, ci può spiegare, dove vede queste cose, positive, e beh, la risposta di Judith, fa un pochino, fa un pochino sorridere, quanto meno, perché lui dice, a me fa strano, che fai questa domanda, come fai a dire una cosa del genere, perché sotto gli occhi di tutti, che la qualità, la serenità, l'organizzazione contro il Torino, sono stati top, che col Verona, molte cose sono state ottime, meglio della partita di Torino, e poi siamo stati sfortunati, insomma, con quegli episodi lì, però, cioè, non capisco come fai a dire una cosa del genere, perché le prestazioni sono state ottime, e dice, solo in Belgio, non ho visto anima, e quindi l'ho detto, insomma, prestazioni non accettabili, queste sono state le parole di Judith, io leggevo anche i commenti, dei tifosi romanisti, a questa conferenza, e tu diceva, no, questo ha bevuto, cose positive col Verona, dove? Allora, devo essere onesto, devo essere onesto, io anche, ho detto, non esageriamo, nel senso, nella partita non è stata così male, si è visto che la Roma ci teneva, eccetera, eccetera, però un conto è, dimostrare di tenerci, un conto è, dimostrare di esserci, cioè, farlo bene, un conto è voler fare bene, un conto è fare bene, la Roma col Verona non ha fatto bene, non ha fatto male, però, non può essere, un segnale positivo il fatto che, anche se hai regalato un gol Gonzaleschi, anche se ti hanno fatto un gol, rubato dal VAR, perché c'era un doppio, farlo, non puoi perdere 3 a 2 col Verona, con una squadra estremamente in crisi, e soprattutto, sei riuscito a ribaltarla, o a rimetterla in piedi, questa gara, e poi la perdi all'ultimo, con un contropiede del cazzo, e ti stanno capitando spesso, quindi, comunque sia, l'alibi, in quel caso, non te lo, non te lo puoi prendere, non sei a Lecce, non sei, con tutto il rispetto di queste piazze, non sei a Torino, sei a Roma, stai facendo male, ti devi prendere le tue responsabilità, e dire, ho visto passi davanti, ma il risultato è inaccettabile, cosa che tu non hai fatto, e purtroppo paghi, anche per questa scelta. Altra domanda, dice, ma lei ha parlato, spesso, di una mancanza di mentalità vincente, è ancora così, cioè, è questo il motivo per cui, la squadra fa alti e bassi, e si aspetta, insomma, che i leader della squadra, adesso, Di Bale e Pellegrini, prendano in mano, questa squadra, in un momento così importante, contro il Bologna, e qui arriva la prima, staggata, del tifoso romanista, io, sinceramente, non mi aspetto niente di diverso, ed è per questo, che ero d'accordo, ad una possibile cessione, chiaro, non mi piaceva, prendere 3 milioni soltanto, ma, Di Bala, è un problema per la Roma, ragazzi, purtroppo, io continuo a pensarlo, e infatti, risponde, Di Bala è out, ha un fastidio muscolare, dopo, gli viene anche fatta, una domanda, più relativa a Di Bala, dice, ma quando si è fatto male, che cosa è successo, ci racconti, e fastidio muscolare, nel senso che, sente questo fastidio, quindi, non ha un vero e proprio, infortunio, però, sente questo fastidio, che lo limita, dal punto di vista, anche mentale, per dire, magari se spingo, mi rompo, quindi, adesso, sento questo fastidio, mi fermo, meglio fermarsi, e questa, purtroppo, una cosa che succede spesso, con Paolo Di Bala, ci sono tante cose, che non si possono discutere, di Paolo Di Bala, per esempio, la sua qualità tecnica, per esempio, il suo piede sinistro, però, poi, ci sono tante cose, che si possono discutere, purtroppo, perché è umano, e, e questi sono i momenti, in cui a te servirebbe, anche perché, andiamo a vivere, un momento, abbastanza vitale, e poi non ce l'hai, e poi non ce l'hai, quindi, io continuo a pensare, che, in estate, la Roma avrebbe fatto bene, a, liberarsi di lui, a malincuore, ma, sarebbe stata la scelta giusta, perché poi, magari, sarebbe arrivato qualcun altro, non facciamo nomi, ma, sarebbe potuto arrivare qualcun altro, che, a lungo andare, nelle 50 partite, ci, speriamo, 58, 60 partite, di questa, di questa stagione, ti era più utile, ti dava più contributo, pellegrini, comunque, tornando alla domanda, non so se giocherà, ma la mia sensazione, dice, riguardo alla mentalità vincente, è che, a tratti, manchi l'anima, quindi, chiamate la mentalità vincente, l'anima, la concentrazione, la voglia di vincere, ma, a tratti, mi sembra che questa squadra, pecchi di questa, qualità, ecco, sto perdendo la voce, però, anche qui, una cosa che io dico, perché poi ci colleghiamo a una domanda che arriva dopo, se ti accorgi, che la tua squadra, manca, di, cattiveria, di voglia di raggiungere il risultato, e, ha alti e bassi, non riesce a rimanere concentrata, e ormai è più di un mese che sei arrivato su questa macchina, cioè, qualche responsabilità, ce l'avrai, sì, o no, ecco, ce lo dice lui, domanda, c'è un suo errore, che avrebbe preferito non fare, in questi primi 50 giorni di Roma, cioè, c'è qualcosa che magari lei non ha fatto, o ha fatto, e avrebbe preferito fare o non fare, in questi suoi 50 giorni, cioè, si rimprovera qualcosa, da questo punto di vista, la risposta di Yuric dice, ma, non so, non credo, non credo, io penso di aver fatto tutto quello, che potevo fare, io penso di aver provato a fare tutto quello, che dovevo fare, questa, la risposta, di, di Yuric, quindi, anche questo è un piccolo campanello d'allarme, neanche troppo piccolo, perché dire che, tu stai facendo il massimo, ma comunque la squadra non ha voglia, eh, ragazzi, abbiamo già parlato quella volta insieme, questo è anche il ruolo dell'allenatore, i calciatori, perché quella volta Yuric ci parlava di, i calciatori devono essere soldatini, cioè, giocano, punto e basta, devono pensare a giocare, io penso ad allenare, presidente, presidenta, ho detto sta cazzata pure l'altra volta, ma, insomma, dice, ci sono i ruoli, no? Quindi i calciatori devono solo giocare, però, il discorso, sì, siamo d'accordo, ma l'allenatore non è solo un tattico, cioè, non è solo un guardiola che ti dice, allora tu da braccetto mi sali, l'altro stringe, ci mettiamo con le ali, pressiamo lì, non è solo quello, no? Perché altrimenti, per esempio, gli allenatori alla Conte, o alla Ciolo Simeone, o anche i Serse Cosmi di una volta, i Carletto Mazzone, cioè, non sarebbero mai esistiti, però esistono, perché? Perché un'altra qualità importante è quella da psicologo, è quella da medium, tra te e i giocatori, di riuscire a trasmettere qualcosa, di riuscire a trasmettere unione, di riuscire a trasmettere che la squadra sia tutta compatta, insieme per il risultato, quello che fa Antonio Conte, che sta riuscendo a fare, adesso a Napoli, cioè, arriva tra le macerie, ne esce fuori alla grande, con la squadra che si vuole gettare, nel vulcano, capisci? Per lui, questa è una qualità che l'allenatore deve mettere, se non riesci a metterla, questa è una cosa che ti devi anche un po' rimproverare, non puoi soltanto pensare, eh, però i giocatori devono gore e basta, non stanno a gore, io gli ho detto che dovranno stringerla, chiudere così, ma non è quello il calcio, il calcio è fatto di tante cose, ed è per questo che è lo sport che ci piace di più, perché è molto simile alla vita, la vita non è solo un aspetto, sono tanti collegati insieme, il calcio è la stessa cosa, non puoi pensare solo alla tattica, non puoi pensare solo alla tecnica, non puoi pensare solo all'affiramento di squadra, ma devi mettere tutto insieme, che poi ti porterà il risultato, questa è una cosa che ci tenevo a dire, che probabilmente non si sa lui se lo sa o no, cioè se fa finta, oppure sa perfettamente che ha delle responsabilità e non le vuole ammettere, fatto sta che adesso arriva un'altra domanda fondamentale che vi fa capire un po' il momento Iuric, l'uomo Iuric in questo momento. Prima di tutto come sta Andika? Andika recuperato. Dopo Firenze e il chiarimento che avete avuto post Firenze, di cui lui praticamente non ha fatto segreto, ha detto anzi ci sono state discussioni importanti e belle accese, come se le spiega insomma queste partite, no come se le spiega, ma dopo quel chiarimento e queste prestazioni, ha mai pensato di farsi da parte, ha mai pensato di alzare la mano, e non dire guardi presidente ci sto provando ma non riesco. Iuric ha detto guarda dopo Firenze, questa è stata una domanda e una risposta soprattutto che mi ha lasciato un po' confuso, perché a parte che ha cominciato un po' a farfugliare Iuric, quindi evidentemente si è sentito un po' toccato da questa domanda, ma lui dice dopo Firenze abbiamo chiarito e io ho la coscienza a posto, perché so come sto lavorando e sto lavorando bene, questa prima domanda, e non ho mai pensato di fare un passo indietro, magari qualcun altro ha pensato e l'ha fatto, ha citato un paio di volte questo qualcun altro, quindi evidentemente qualcuno deve aver fatto un passo indietro, o qualcosa comunque deve essere successa a livello di squadra, di qualche senatore o a livello di società, perché lui dice proprio io no, perché ho la coscienza a posto, ho lavorato bene e non sono mai tornato indietro, qualcun altro magari, qualcun altro, non io, e quindi questa è già una cosa che ti fa un po' pensare, e che forse ci dice che quando avevamo fatto quell'analisi, con i senatori, i giocatori che non erano d'accordo con lui, e poi dopo aver capito che De Rossi non poteva tornare, hanno fatto un leggero passo indietro, potrebbe essere una lettura che ci sta, visto la risposta, ma comunque non lo sappiamo, rimane questo grosso dubbio, e poi ripete ancora quello che era stato detto prima, dice poi no, non ho mai pensato di fare un passo indietro, perché non capisco bene quale sia il motivo, cioè a volte mi sento di avere la squadra in mano completamente, a volte mi sento di non averla, non so bene a cosa è dovuto, magari è dovuto ad altre situazioni, quella societaria, quella di ambiente, eccetera eccetera, quindi lui si sente insomma di aver fatto il suo lavoro bene, quindi coscienza a posto, a posto così, a posto così per Iuric, nessuno gli ha fatto la domanda sui presidenti, perché era già, insomma era già notizia che non sarebbero arrivati, sarebbe stato interessante sapere quello che pensava Iuric, anche del fatto che la presidenza era attesa a Roma, così non è stato, quindi aspetteremo probabilmente la prossima settimana per vedere notizie, comunque noi ci salutiamo così, fatemi sapere cosa ne pensate voi, io sinceramente non rimango neanche più, come ho detto, sorpreso da alcune dichiarazioni, ma mi preoccupano anche parecchio le dichiarazioni di Iuric, perché dire che non senti la squadra insomma con te, e non ti spieghi neanche il motivo, sono passati 50 giorni, è abbastanza grave, cioè la Roma deve ripartire in fretta, e deve farlo con convinzione di poter correre per lungo tempo, adesso questa convinzione non c'è, e quindi la preoccupazione sale, ci vediamo domani prima del Bologna, e speriamo naturalmente di dare il preludio a tre punti, che non confermino Iuric, ma che comunque ci facciano passare una pausa più tranquilla. grazie a tutti,